Barbero, Alessandro Barbero che ovviamente non sponderò una sola parola per presentarlo perché la grandissima affluenza e insomma la fama di cui gode ci permette di non spendere parole per il suo curriculum che è noto a tutti. Mi permetterò solo di dire che il professor Barbero è un antico amico del circolo dei lettori e quindi è maggiore la riconoscenza che io provo in questo momento nei suoi confronti perché ha trovato il modo di essere fedele alle amicizie ed è uno dei suoi tanti pregi per cui nonostante tutti i suoi impegni stasera ha accettato di essere fedele. Di essere qui a parlare di un libro che devo dire a me appassionato moltissimo naturalmente lavorando nell'editoria da una quantità di decenni sul cui numero sostendo un velo e essendo questo un libro che spalanca come dire le 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 Creando anche un mercato nuovo, quindi due cose che in sé magari sono pensate come lontano, i libri e la mercatura, stasera vedremo invece che non sono poi così lontani fra le altre cose che vedremo. Allora io sto parlando di inventare i libri, eccolo qua, un tomo ponderoso e davvero affascinante, io me lo sono goduto moltissimo, dedicato alla nascita di un marchio editoriale che prosegue anche oggi, che è quello dei Giunti. Quindi la cosa, la storia e Alessandro Barbero è uno straordinario raccontatore di storie, anche i suoi romanzi lo testimoniano, non solo appunto i suoi libri di storia. Penso al romanzo su Venezia, penso al romanzo dedicato alle Atteniesi, penso al primissimo romanzo d'esordio, Mister Pyle, quindi di qualche anno fa, nel 96, quando vinse lo strega da esordiente praticamente. Quindi è sempre stata la sua carriera, una carriera che ha come sottofondo un po' dell'eccezionale, ma insomma magari ne riparliamo. Allora Alessandro, voi mi perdonerete se io do del tuo a professor Barbero, ma insomma la nostra amicizia è davvero antica e insomma, se posso permettermi, robusta, forte. E quindi non farò finzioni, ci daremo del tu. Allora Alessandro, io comincerei proprio da questo, dalla Firenze di fine quattrocento, dove due ragazzi di periferia. Tu ritorni spesso, usi spesso questa metafora e magari ce la spieghi adesso iniziando, Filippo e Luca Antonio Giunti, che hanno un'origine molto molto umile e adesso è molto semplice, adesso magari ci dirai qual è, che si avvicinano in maniere diverse al mondo dei libri. I libri, la nascita della stampa, l'invenzione della stampa di Gutenberg è piuttosto recente e loro si avvicinano a questo nuovo oggetto, il libro. Ti lascerei la parola e ti chiederei di spiegare questa metafora di ragazzi di periferia fiorentina. Sì, ma diciamo, è un anacronismo come espressione, ma non è neanche una metafora, è una verità. Perché insomma, nelle città del Medioevo e del Rinascimento, ovviamente la struttura della città era diversa dalla nostra, non era così netta la distinzione fra quartieri alti e quartieri popolari e però in una grande città come era la Firenze di allora, e beh, era chiaro che c'erano insomma i quartieri centrali della città dove abitava gente, la cui famiglie abitavano in città da tanto tempo, potevano essere ricchi o poveri, ma erano comunque i cittadini, i fiorentini e poi i nuovi arrivati si intasavano nei nuovi sobborghi che via via venivano costruiti tutti intorno e quindi la periferia di una città era davvero il luogo dove abitava povera gente, povera gente soprattutto perché appunto immigrati arrivati dalla campagna. Tutto questo naturalmente io lo posso raccontare perché ci sono delle fonti straordinarie per ricostruire la Firenze del Quattrocento. Sapete che anche se noi storici a volte possiamo dare l'impressione di sapere tutto, in realtà non sappiamo quasi niente e quel poco che sappiamo lo sappiamo in base alle fonti che la gente dell'epoca ha avuto la gentilezza di lasciarci. Allora, una grossa parte di questo libro, tutta la parte iniziale di questo libro che racconta appunto le origini familiari e le vicende dell'adolescenza e della giovinezza di questi ragazzi, è stato possibile scriverla perché a Firenze, a partire da un anno fatale, il 1427, che a voi non dice niente ma per gli storici della Firenze medievale è una data assolutamente fondamentale, il governo fiorentino è deciso di fare una cosa che avrà gettato nello sconforto tutti i cittadini e invece per noi storici è un regalo meraviglioso e cioè hanno deciso di fare il catasto, come dicevano loro, l'inventario di tutti gli abitanti della città con tutti i loro possedimenti. In che casa abiti? È tua? Non è tua? Quanto costa? Come si chiama la tua moglie? Quanti figli hai? Possiedi qualcosa? Hai dei debiti? Tutto questo naturalmente ha nobile fine di fargli pagare le tasse, ma per noi storici questo vuol dire che a partire dal 1427 noi abbiamo la fotografia della città di Firenze con tutti i suoi abitanti descritti per nome, età, dove abitano, quanti soldi hanno, che lavoro fanno e poi ogni 10, 15, 20 anni lo rifacevano naturalmente. Quindi ecco, allora, sapendo di chi erano figli questi due ragazzi, perché questo insomma l'erudizione lo ha ricostruito da tanto tempo, conoscendo il nome del pappo e la zona dove abitavano, uno li ritrova, li ritrova bambini nella dichiarazione fiscale del papà e poi li vede crescere pian piano, fino a quando non arriva la notizia appunto che uno dei due, Filippo, sta a bottega dal pollaiolo a imparare l'oreficeria e poi che l'altro fratellino, Luca Antonio, è emigrato a Venezia e sta a bottega a Venezia da un cartolaio, cioè uno che si occupa di carta in tutti i modi possibili e quindi anche di stampare libri, perché sempre carta è, e quindi il discorso dei ragazzi di periferia mi ha colpito fin dall'inizio, perché questa è anche la storia di un'ascesa sociale straordinaria. Questi sono davvero figli di povera gente, di gente che campa faticosamente facendo il mestiere che faceva la maggioranza dei fiorentini poveri, cioè i tessitori, a domicilio, con questa industria importantissima che era una vera industria, con i padroni e con gli operai, però non aveva i capannoni, gli operai fanno a casa, il padrone gli portava il lavoro a casa e poi veniva a ritirarlo. E' gente così, che ogni tanto fa qualche debito, che ogni tanto prova a avviare un piccolo commercio, sempre di panni, poi non gli va bene, possiedono quattro cose, una vigna, una casetta di poco valore e ci sono tanti fratelli, i quali devono trovare una strada nella vita, partendo da zero praticamente. Quando va bene riesce a entrare come apprendista appunto a bottega di un artigiano, di un piccolo imprenditore. Ciò che rende questi due fratelli diversi da migliaia di altri ragazzi, figli di povera gente nella Firenze dell'epoca è che loro, arrabbattandosi per trovarsi una strada nella vita, colgono questa cosa nuova dei libri. In modi diversi, Filippo appunto, che andava a bottega dal Pollaiolo, entra nel mercato dei libri probabilmente perché ha imparato a fabbricare i caratteri di stampa, perché ci vuole un orefice per fabbricare i caratteri di stampa. E poi, e poi, pian piano li vedi proprio allargarsi. Queste fonti straordinarie che ci sono negli archivi di Firenze ti permettono di vedere, beh, intanto naturalmente quando muore il papà e la mamma rimane, vive ancora molto a lungo con loro, le sorelle si sposano, poi anche loro si sposano, cominciano a fare dei figli, li vedi proprio crescere. E contemporaneamente vedi, nel caso di Filippo che è rimasto a Firenze, perché a Venezia le fonti sono diverse e non ti fanno vedere così da vicino la famiglia, l'azienda. E invece nel caso di Filippo vedi proprio dove ha la bottega. Col mio libro uno potrebbe andare per le strade di Firenze, trovare dove abitava, dove ha comprato, no, ha affittato la prima bottega, quando si allarga, quando ne ha affitta un'altra. Quindi è una storia affascinante di per sé, perché entri proprio nella concretezza della quotidianità, della vita di gente comune. Ecco, perché loro partono come gente normalissima. Due artigiani fiorentini, migliaia d'altri, ecco. E poi diventano qualche cosa invece di abbastanza eccezionale. Ecco, allora, sono molte le città naturalmente che compaiono più o meno in primo piano o sullo sfondo in questo libro. Diciamo che forse le principali sono tre. Firenze, Venezia, Roma, ma magari ci torneremo verso la fine, e alcune città europee, perché la grandezza dei giunti, la loro scalata sociale è tale, per cui, come dire, partono da Firenze, ma riescono ad arrivare a radicarsi con i loro commerci in molte città europee. Ma ci torniamo alla fine. Allora, Firenze, forse in questo momento di fine Quattrocento, è un po' più piccola in quanto numeri di abitanti di Venezia, no? Che è, diremmo, al suo fulgore. Su Roma torneremo dopo. Che differenza c'è, appunto? La cosa, una delle cose belle del tuo libro è naturalmente che i fondali storici sono ricostruiti magistralmente, che te lo dico a fare, insomma. È magnifica anche la ricostruzione di qual è la situazione di diversità, ad esempio, fra Firenze e Venezia. Venezia c'è centomila abitanti, ad esempio, e Firenze c'è ne ha solo cinquantamila. Sono due città in un momento diverso della loro storia, no? Sì, 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 sì. Firenze, per carità, Firenze è sempre un importantissimo centro commerciale, bancario, industriale, ma non più come è stata in passato. Ed è anche un grande centro culturale, naturalmente. Questi ragazzi crescono nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. Quando muore Lorenzo il Magnifico nel 1492, loro sono già ben avviati. Una delle cose affascinanti di queste vite, che sono vite abbastanza lunghe anche, per fortuna loro e per fortuna nostra che le ricostruiamo, è che attraversano un'epoca di profonda trasformazione. C'è una falsa questione, che è falsa, ma che comunque ci ossessiona tutti noi storici, e cioè la fine del Medioevo, l'inizio del Rinascimento. È una falsa questione, perché naturalmente non si tratta del fatto che a un certo punto hanno suonato una campanella, hanno detto ragazzi è finito il Medioevo, meno male, cambia tutto. Non è affatto così. Sì, però non c'è dubbio che ci sono decenni e generazioni di accelerazione del cambiamento, dell'innovazione, soprattutto culturale, artistica, perché poi non è che nel Rinascimento i contadini lavorassero la terra o i mercanti commerciassero in modo diverso da come facevano prima. Però sul piano culturale e artistico ci sono grandi, eccitanti novità, grandi cambiamenti di mentalità e così via. E lì vedi, lì vedi, vedi quanto è assurdo appunto mettere in termini quando finisce il Medioevo, perché come dire, questi ragazzi sono nati nel Medioevo, con qualunque criterio uno scelga. E poi hanno attraversato il Rinascimento e hanno attraversato anche la grande crisi che investe l'Italia nel pieno del Rinascimento. Perché la tragedia del Rinascimento è che l'Italia possiamo stare specificamente Venezia, Firenze, che hanno cronologie diverse, come tu dicevi, e adesso ci torniamo. Ma è l'Italia del Rinascimento che a un certo punto impatta in una tragedia sorprendente, perché è il paese più ricco del mondo, del loro mondo. È il paese più avanzato, più colto, ma anche più avanzato dal punto di vista economico, finanziario, è assolutamente un paese incomparabile come livello culturale e, ripeto, economico rispetto al resto d'Europa. E però, proprio nel momento in cui gli italiani hanno la sensazione appunto di essere alla testa del mondo e del progresso, si scopre la debolezza politica e militare di questa Italia divisa in troppi piccoli stati e c'è la tragedia dell'invasione francese e spagnola, delle guerre d'Italia, che vogliono dire decenni e decenni di invasioni, di eserciti che si spostano, di battaglie sanguinose, di devastazioni. E ogni volta tutto questo comporta anche la crisi economica. Uno dei lavori che io ho fatto, studiando questi produttori di libri, è stato anche proprio di fare l'elenco, di fare, di usare gli elenchi che già abbiamo, della loro produzione per andare a vedere in un anno di crisi, in un anno di guerra, cosa succede all'azienda. E l'azienda fa fatica, l'azienda è in affanno. L'anno prima ha pubblicato 40 titoli e quest'anno che c'è la guerra ne pubblica 10. La vedi proprio l'impatto di queste cose, no? E poi si esce con un'Italia, con un'Italia trasformata, con un'Italia in parte dominata dagli spagnoli, con una Firenze dove ormai l'esperienza comunale, che era ancora pienamente viva, è ancora anche al tempo dei medici di Lorenzo il Magnifico. Comunque, quella era una città dove c'era una partecipazione dei cittadini e un senso di libertà repubblicana. E invece poi finisce tutto. I nostri muoiono in un'epoca in cui ormai Firenze è suddita di un granduca. Sono sempre i medici. Ma è diverso fare Lorenzo il Magnifico, che fa, come dire, il padre nobile di una repubblica, ed essere invece il granduca Cosimo, che fa quello che vuole. Da lui gli ordini, detta le leggi, mette in galera la gente, fa sopprimere chi non gli piace, e così via. Ecco, proprio una trasformazione profonda. E in questo contesto Venezia resiste meglio, però. Venezia ancora nel Cinquecento, ancora alla fine del Cinquecento, è una grande potenza economica, ma anche militare. Domina ancora il Mediterraneo orientale, è ancora in grado Venezia di fare la guerra contro il Sultano, se è alla pari praticamente. Ecco, diciamo, ecco. E invece Firenze si è impoverita, c'è poco da fare. Firenze, la congiuntura economica evidentemente la colpisce di più, i grandi commerci con l'Oriente sono cosa di Venezia, e quelli continuano a portare enormi profitti. E invece le banche fiorentine ormai non sono più così importanti, perché anche nel resto d'Europa hanno imparato. Il Cinquecento è il secolo delle grandi banche tedesche, i Fugli. Ecco, e quindi Firenze non ha più un monopolio in quelle cose, e si rimpicciolisce, si impoverisce, non c'è dubbio. Poi il colpo di grazia appunto è l'ultimo tentativo di salvare la Repubblica, l'assedio di Firenze del 1530, che lascia una città in totale miseria, scoraggiata, impoverita, affamata, e in cui i medici appunto impongono, noi diremmo, la dittatura. Loro dicono, è il principato naturalmente, certo, ecco. però il declino è visibile, mentre invece Venezia è ancora una città di una floridezza straordinaria. Eh, allora diciamo che Venezia alla fine del Quattrocento dovrà cominciare a fare i conti con delle nuove rotte sui mari che portano, appunto, che chiudono lentamente a Oriente e aprono a Occidente. Però contemporaneamente Venezia dal punto di vista della fattura dei libri è una specie di editori, di libreria e di casa editrice a cielo aperto proprio, perché ci sono un'inaudita quantità di librai in città, moltissimi stampatori, moltissimi cartolai, insomma, Venezia è una specie di capitale della nuova nascente editoria. Allora, Luca Antonio arriva a Bottega, appunto, a Venezia, ma in quegli stessi anni comincerà a pubblicare quello che è il grande avversario dei giunti a Venezia, vale a dire Aldo Manuzio. E anche questa rivalità, secondo me, è piuttosto interessante, no? Perché Manuzio, se posso usare un paragone contemporaneo, è una specie di calasso della situazione, no? cioè molto colto, circondato da eruditi, da storici della cultura classica e forse Luca Antonio Giunti è più un commerciante? Certo, 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 no, no, ma infatti una delle cose che rendono interessante questa storia e qui devo fare una premessa, io ero sempre stato profondamente annoiato dalla storia dell'invenzione della stampa, Gutenberg, i primi stampatori, sono stato per tutta la vita convinto che fosse un argomento noiosissimo, di cui non mi importava niente. Poi, poi quando appunto con l'editore Giunti è nata l'idea di provare a studiare la storia appunto di questi primi predecessori ecco dei Giunti attuali, mi sono invece reso conto che è una storia divertentissima, mi sono divertito da matti a fare questo libro e uno dei motivi del divertimento è proprio che hai questi due binari paralleli, questi due fratelli molto diversi fra loro, in due città molto diverse fra loro, che in apparenza fanno lo stesso mestiere, ma in realtà non è vero niente, con tutto che loro sono in società e per la maggior parte della loro vita rimangono in società dividendo i profitti, poi però a un certo punto litigano, non riescono più ad andare avanti insieme e ci sono dei motivi perché il punto è ovviamente loro si può immaginare che siano entrati in quel commercio perché appunto erano dei ragazzi che dovevano fare qualcosa e hanno avuto l'intuizione che quello era un ambito commerciale in espansione, sono entrati in quel ramo, poi però la loro personalità li conduce su due strade molto diverse, intanto appunto Luca Antonio va a Venezia mentre Filippo rimane a Firenze, ora non è che a Firenze non si potessero pubblicare stampare dei libri ma indubbiamente a Firenze a Venezia c'era una potenza industriale in quel campo enormemente superiore quindi il numero di libri pubblicati a Firenze in tutta quell'epoca è molto più basso rispetto al numero di libri pubblicati a Venezia ma soprattutto la cosa interessante è che tipo di libri perché noi parliamo dei libri come se fosse tutta la stessa cosa e invece non è vero qual era stato il primo libro pubblicato da Gutenberg una volta che ha inventato la stampa a caratteri mobili non ha mica pubblicato Cicerone o la Divina Commedia ha pubblicato la Bibbia ha stampato la Bibbia e Luca Antonio a Venezia si occupa essenzialmente di un mercato librario che per uno storico della cultura appassionato delle grandi novità appunto dell'umanesimo del 4-500 può sembrare un mercato librario abbastanza poco interessante ripetitivo erano i libri prodotti da Luca Antonio erano magari belli come oggetti ma non è che partecipassero a un dibattito culturale perché Luca Antonio fondamentalmente pubblicava messali messali antifonari cioè strumenti di lavoro per il clero ora chiaro lo studioso di Aldo Manuzio nel suo intimo rapporto con l'umanesimo di Luca Antonio può anche disinteressarsi totalmente quei libri lì bellissimi formalmente per le illustrazioni i caratteri e così via però appunto ripeto erano libri che ripetevano moduli vecchi ed erano sempre quelli fondamentalmente ma il punto è che era un mercato enorme perché la chiesa era una gigantesca multinazionale ricchissima che disponeva di enormi risorse e che aveva un bisogno continuo di libri di quei libri lì di libri di lavoro e Luca Antonio si butta in quel mercato lì e fa quello e diventa rapidamente un leader europeo nel senso che vengono dalla Spagna o dall'Austria gli inviati dei vescovi a commissionare a Luca Antonio la stampa del messale per la loro diocese dall'Ungheria dalla Polonia ecco perché ogni diocesi ha i suoi rituali la sua liturgia un po' diversa da quella degli altri e quindi deve avere il suo messale il suo libro dei canti l'antifonario e così via e costano carissimi questi libri oltretutto ma il clero paga invece il fratello Filippo che poi è il fratello maggiore dal punto di vista dell'età anche se Luca Antonio diventa rapidamente un gigante e negli affari lo surclassa Filippo che invece è il fratello maggiore a Firenze si accorge di vivere in un ambiente dove libri vuol dire dibattito intellettuale vuol dire appunto letteratura vuol dire umanesimo vuol dire classici vuol dire tutte le discussioni se sia meglio il latino o la lingua italiana se Dante fosse un grande poeta oppure un buzzurro medievale che non sapeva bene il latino e c'è il dibattito su appunto quale deve essere la lingua italiana oggi se deve essere il fiorentino se deve essere il toscano oppure un'altra cosa la lingua che si parla a Milano alla corte degli Sforza ecco in tutti questi dibattiti Filippo la netta impressione è che lui a un certo punto ci sia rimasto imbischiato cioè che si sia appassionato a queste cose anche se lui non era una persona colta e abbiamo testimonianze di umanisti che pubblicavano con lui e che poi fra loro si dicevano a Filippo è un asino non capisce niente ma invece abbiamo indizi lui pubblicava certi testi con prefazioni firmate da lui poi anche lì gli umanisti si dicevano mica l'ha scritta lui se l'è fatta scrivere ma interviene in un dibattito comunque diciamo così e in questo senso è lui il rivale di Aldo Aldo sta a Venezia ma fa la stessa cosa che Filippo fa a Firenze cioè appunto dialogare con gli umanisti e pubblicare delle cose che sono l'avanguardia del dibattito intellettuale di quell'epoca Luca Antonio di Aldo se ne infischia totalmente Luca Antonio guadagna dieci volte di più pubblicando i suoi libri da messa però poi probabilmente quando anche Aldo Manuzio comincia a farsi una sua nicchia un suo mercato e ottiene anche delle protezioni perché sai a quell'epoca non esisteva il copyright non esisteva il diritto d'autore l'autore guadagnava qualcosa se si metteva d'accordo con lo stampatore e prima di dargli il manoscritto si faceva pagare poi una volta che il manoscritto ce l'aveva lo stampatore faceva quel che voleva e la concorrenza un mese dopo ristampava lo stesso libro tranquillamente non c'era nessuna eh di dire no no a questo proposito volevo proprio chiederti questo allora io ho visto che tu citi spesso Paolo Trovato che naturalmente è un filologo e uno storico di questi fenomeni anche della primissima editoria e lui stabilisce una cosa interessante secondo me che la parola concorrenza entra ed è veramente curioso questo la parola concorrenza entra in uso attraverso il mercato librario cioè è una parola che non viene fuori in altri settori dell'economia ma viene fuori dal mondo editoriale tanto è vero che se non mi ricordo male c'è un'attestazione che credo sia del 96 una lettera uno scritto di Manuzio che chiede al senato della repubblica veneziana di proteggerlo da questa cosa che lui definisce la perfida e rabbiosa concorrenza ed è curioso questo che noi siamo abituati a pensare ai libri e al mondo dei libri come incontaminato da ragioni di mercato invece no Manuzio chiedeva al senato della repubblica veneziana di proteggerlo perché lui aveva fatto incidere i caratteri greci che gli erano costati un botto nonostante ci fossero i torresani o i dasola come tu li chiami cioè il socio finanziatore insomma che aveva cacciato i quattrini per far incidere i caratteri greci dice sì ma io ho speso e adesso stampano in greco anche altri e probabilmente era Luca Antonio che aveva capito che anche lì c'era una nicchia di mercato esattamente sì ben inteso quando tu dici noi siamo abituati a pensare che il mondo dei libri si è incontaminato da rapporti con il vile denaro stai scherzando vero benissimo che non è affatto così anche se non tutti gli editori sono come quel nostro comune amico che da sempre dice che vendere libri è come vendere quarti di bue però comunque insomma il vile denaro c'entra e come e il bello è proprio studiando appunto questi Filippo e Luca Antonio è proprio vedere come possono essere compresenti in misura diversa queste due cose questi sono imprenditori senza alcun dubbio e al tempo stesso almeno Filippo è un imprenditore che si innamora anche dell'aspetto intellettuale del suo lavoro dopodiché la concorrenza in effetti il mondo del commercio e dell'industria medievale tendeva a organizzarsi per evitare gli effetti peggiori di quella che noi chiamiamo la concorrenza se tu volevi aprire un'azienda in una città medievale in un certo ramo dovevi ottenere il permesso della corporazione per cui tutti quelli che già facevano quel mestiere lì decidevano che c'era spazio anche per te ti davano il permesso di aprire la tua bottega ti dovevi iscrivere alla corporazione che aveva regole precise per tutti quanto si paga di salario agli operai quanto deve valere come deve essere fatto il prodotto sai nel 400 per effetto della peste la popolazione si è molto ridotta e questo vuole anche dire che i poveri trovano lavoro più facilmente e hanno più potere d'acquisto mentre prima chi produceva tessuti produceva tessuti di lusso per i ricchi e i poveri si vestivano con tessuti che le donne del popolo fabbricavano in casa praticamente al telaio nel 400 per la prima volta anche i poveri possono avere abbastanza soldi in tasca da dire una volta nella vita mi faccio un vestito vado a comprarmi un taglio di stoffa ma ovviamente dovrà essere stoffa che non costi troppo allora ci sono città dalle nostre parti nell'Italia padana e in particolare nel nord ovest ci sono città nel 400 che capiscono questa cosa e dicono quello è il mercato i panni che costano poco a quel punto la corporazione dei produttori di panni in una città qualunque padana farà un regolamento dove dice noi qui fabbrichiamo panni di cattiva qualità noi qui fabbrichiamo solo roba che costi poco perché quello è il campo in cui noi vogliamo essere presenti e le regole valgono per tutti in questo contesto io sono convinto che anche allora gli imprenditori avessero delle rivalità fra loro e che quando uno andava in rovina il collega era contentissimo però ufficialmente le strutture erano concepite invece per limitare il problema della concorrenza il libro è un prodotto nuovo da questo punto di vista certo non devi cioè sì fabbrichi il libro ma per la prima volta non è l'oggetto in sé che conta come nel caso di un tessuto più bello meno bello nel libro ci deve essere scritto qualcosa e quello che viene stampato nel libro fa la differenza e crea il successo del tuo prodotto e lì appunto lì si accorgono che siccome non ci sono regole e si fa tutto quello che si vuole e quindi se il mio collega ha stampato un libro che sta vendendo lo stampo anch'io subito poi si fa il passo successivo pago gli impiegati del mio collega per farmi rivelare di nascosto qual è il prossimo libro che vogliono fare e che riesco a trafugare il manoscritto a farvelo copiare in segreto poi esco io esco io prima quindi in questo contesto effettivamente loro vivono la concorrenza come la scoperta di qualche cosa di inaspettato di tremendo frutto della malvagità umana i concorrenti sono cattivi sono perfidi malvagi delinquenti però non ci sono leggi che gli impediscano di fare questa cosa l'unico modo è ricorrere a un altro aspetto centrale della società di quell'epoca cioè le protezioni le protezioni politiche se tu sei in grado di andare dal governo e di muovere appunto di telefonare a qualcuno di fare intervenire qualcuno e di pagare delle bustarelle allora otterrai che il governo dica appunto Aldo Manuzio è l'unico che qui può stampare libri in greco nessun altro li può stampare vai dal Papa e ottieni la stessa cosa naturalmente il privilegio fatto a Venezia vale solo nello Stato veneziano a Firenze non importa nulla ed ecco perché è legittimo sospettare che Luca Antonio abbia percepito che Aldo Manuzio stava aprendo un nuovo mercato interessante mai a livello dei libri da messa assolutamente però Luca Antonio è uno che si muove in tutte le direzioni quando c'è l'affare e lo facciamo e allora non mi sembra inverosimile che Luca Antonio e Filippo si siano messi d'accordo qui a Venezia non li possiamo stampare i libri greci ma a Firenze sì e quindi li fai tu Filippo a Firenze sì vuole la leggenda che il cortigiano di Baldassar Castiglione che è pubblicato nel 28 a Venezia nottetempo abbia quindi rattraversato i confini e a strettissimo giro sia stato pubblicato a Firenze appunto dai giunti quindi evidentemente c'erano delle correlazioni fra l'altro un'altra cosa interessante di questa famiglia che è numerosissima è che loro magari si dividono come succede a Filippo e a Luca Antonio però poi riproducendosi molto avendo molti figli ognuno poi come dire si diramano restano una famiglia comunque molto unita una famiglia impresa mi verrebbe da dire e si diramano in questo senso in molte città europee giusto appunto in Spagna in Francia hanno filiali mi verrebbe da dire in Europa questo è interessante in un periodo in cui esisteva già la fiera di Francoforte che era una fiera libraria sì sì certo così come c'era Salamanca la fiera dei libri eccetera sì in effetti nel Cinquecento l'azienda assume delle dimensioni tali che io mi sono fermato per fortuna a un certo punto ecco perché al tempo stesso siccome questi rami dei giunti trapiantati appunto a Lione in Spagna a Roma e così via sono studiati conosciuti e alla fine io non ho resistito un po' di approfondimento anche su quelli l'ho fatto però diventa impossibile seguire questa impresa in tutte le sue le sue drammazioni anche devo dire per un altro motivo lo dico perché magari appunto i segreti del mestiere sono la cosa più interessante da dire a chi non si occupa di queste cose le scritture del Cinquecento sono illegibili ecco lavorare sulle fonti del Cinquecento bisogna essere dei santi io perdo la pazienza a un certo punto mentre appunto le scritture medievali per chi ha imparato a leggerle a prima vista sono difficili ma quando impari a leggerle sono chiarissime poi già nel Tre Quattrocento cominciano a peggiorare un pochino ma nel Cinquecento è una tragedia un contratto notarino del Cinquecento ci vuole la lente di ingrandimento e mezza giornata per riuscire a leggerlo quindi io per fortuna faccio il medievista appunto però questo lavoro mi ha trascinato dentro il Cinquecento e quindi io ho provato a seguire appunto qualcuno di questi di questi nipoti giunti nelle altre città anche perché appunto per fortuna per fortuna ci sono studiosi questo libro è stato possibile perché questi argomenti oltre ai meravigliosi documenti d'archivio che dicevo e che ho visto però ci sono anche tanti studi naturalmente su cui tu ti appoggi e pubblicazioni di documenti ci sono dei documenti fantastici in Spagna i litigi con appunto con i parenti anche fra marito e moglie certi personaggi di donne che a un certo punto prendono in pugno l'azienda perché il marito tanto è sempre via alla fiera di Francoforte appunto che altra parte e allora a casa è rimasta la moglie e lei governa l'azienda i vicini che gli fanno causa perché la padrona e i suoi lavoranti preparano l'inchiostro fisicamente in giardino in un pentolone di olio bollente una puzza terrificante affumicano tutto il vicinato allora si fa causa per vietargli di fabbricare l'inchiostro in casa e tu leggi gli atti di questa causa scopri che siccome l'inchiostro aveva come base l'olio di lino che è commestibile gli operai mentre facevano l'inchiostro intingevano il pane nel pentolone dell'inchiostro per fare colazione ecco cose del genere come fai a non raccontarle quindi sono un po' allargato certo 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 e veniamo alla terza città che è sullo sfondo allora la chiesa quando la stampa quando compare quando compaiono i primi libri a stampa naturalmente è terrorizzata i frati domenicani fanno prediche a Venezia contro questa invenzione che è un'invenzione del demonio in tutta evidenza perché un libro lo possono comprare tutti e qui o quasi tutti anche se all'epoca erano molto costosi però perdevano il controllo della cultura in qualche modo Roma è sullo sfondo perché alla fine di questa avventura che tu racconti compare l'indice dei libri proibiti cioè c'è un intervento anche se in qualche modo lo stato pontificio ha favorito la nascita della cultura editoriale perché noi sappiamo che Aldo Manuzio ha studiato proprio è passato per 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 Roma e si è formato a Roma e probabilmente le prime i primi stampatori sono proprio a Roma per i libri ecclesiastici ma verso la fine del cinquecento come dire si apre un momento di controllo più fermo e ferreo da parte della chiesa perché tutti potevano comprare i libri sì in realtà dunque sai è una questione complessa perché la chiesa era un mondo complesso c'era di tutto naturalmente c'è i domenicani proprio all'epoca dei nostri c'è Savonarola che per un po' di tempo a Firenze controlla la piazza e Savonarola Savonarola brucia i disegni dei pittori rilascimentali perché ci sono i nudi brucia gli strumenti musicali perché la musica certo è un'invenzione diabolica e brucia anche i libri degli antichi perché erano pagani Savonarola non dico un talebano i talebani sono molto meglio Elisis per questo punto di vista però poi lo fanno fuori ben inteso e la chiesa è contentissima che l'abbiamo tolto dai piedi benché fosse un frate perché esagerava la chiesa in realtà non reagisce affatto con immediato allarme quando viene inventata la stampa perché la chiesa non ha il problema di impedire l'evoluzione della cultura e la crescita della conoscenza ha il problema di essere parte dominante di questa crescita d'accordo ecco il cristianesimo medievale contrariamente ai luoghi comuni non è mai stato oscurantista nel senso di dire appunto no no non bisogna approfondire non bisogna indagare anzi la chiesa dell'epoca ha ereditato una tradizione di razionalismo religioso però Dio ha creato l'universo in termini razionali ha dato all'uomo la ragione che ci distingue dagli animali e ci rende uguali a Dio proprio per capire com'è fatto questo mondo che ha fatto Dio e quindi è fatto benissimo fra l'altro questo mondo ora e la libertà di discussione c'è sempre stata salvo che la chiesa ha sempre ritenuto di avere il diritto di dire no queste idee che ha avanzato questo teologo secondo noi sono sbagliate e quindi questo suo libro non deve circolare questo avveniva già prima dell'invenzione della stampa perché anche se a noi sembra incredibile anche quando i libri dovevano scriverseli tutti a mano e ogni singolo esemplare erano mesi di lavoro di uno specialista però i libri c'erano circolavano venivano discussi letti oppure proibiti la stampa è un enorme moltiplicatore di tutto questo e all'inizio la chiesa non sembra cogliere subito il fatto che ci sia un grosso pericolo all'inizio condivide il resto la chiesa vive nel mondo e tra l'altro la chiesa del quattrocento è una chiesa molto mondana è una chiesa di papi cardinali e vescovi che hanno donne figli fanno politica fanno la guerra non sono certo dei fanatici religiosi ecco sono però preoccupati diciamo che la cristianità proceda sotto la loro guida la stampa va benissimo si stampa la Bibbia per l'appunto si stampa la Bibbia tradotta cosa che non era vietata in realtà anche se nei secoli precedenti qualche dubbio c'era stato nella chiesa sul fatto che la gente comune se legge la Bibbia nella sua lingua vuol dire che tu te la puoi leggere da solo senza che ci sia il parroco che ti spiega ecco e siccome tu sei un ignorante non capirai niente ti farai delle idee sbagliate e tuttavia la chiesa non era arrivata a vietare la lettura della Bibbia tradotta in volgare e nella generazione di Filippo e Luca Antonio non è ancora vietato Luca Antonio fra l'altro stampa delle traduzioni in italiano della Bibbia non è vietato poi lentamente ma ci hanno messo 50 anni da Gutenberg lentamente la chiesa comincia anche a dirsi certo che però di libri ne escono un po' troppi come diciamo noi con internet noi con internet diciamo adesso vedi il primo venuto può scrivere quello che vuole e farsi sentire anche se è un ignorante o un nazista ecco la stessa cosa succede con la stampa a un certo punto cominciano a dire ma qui il primo venuto può stampare quello che vuole magari è pericoloso allora lì effettivamente si innesca un cambiamento che di nuovo richiederà altri 50 anni perché solo a metà 500 che i giochi sono fatti però è uno dei cambiamenti che segnano il passaggio dal medioevo all'età moderna se vogliamo ecco ed è un passaggio nel senso di una crescente repressione ecco di una crescente intolleranza o perlomeno volontà di controllo non ci si arriva in fretta la chiesa era abituata al fatto va bene c'è un libro lo leggiamo e se proprio ci sono scritte delle enormità facciamo sapere che non bisogna leggerlo ma adesso i libri sono tantissimi e allora pian piano si comincia a pensare che come ci sono tantissimi libri molti probabilmente contengono cose sbagliate allora bisogna leggerli tutti e cominciare a fare degli elenchi di quelli che non vanno bene l'indice e poi la censura preventiva si comincia a dire ma forse sarebbe bene che prima di stampare un libro lo stampatore chiedesse il permesso tutte queste cose all'epoca dei nostri due ragazzi poi diventati due vecchi signori e dei loro figli perché io ho ancora seguito appunto un po' la generazione dei figli questo è all'inizio e la cosa interessante è vedere questa gente che vive in un mondo che sta cambiando in un mondo che sta peggiorando dal loro punto di vista e che cercano di rallentare ecco questa china la figura che ho trovato più interessante è il figlio di Luca Antonio Tommaso il quale è anche lui un imprenditore spregiudicato che pensa solo ai soldi secondo molti suoi contemporanei ma in realtà Tommaso è anche diversamente dal padre in relazione con umanisti ha un'altra statura diciamo così ed è il leader uno dei leader degli editori degli stampatori veneziani quindi di una corporazione importante e quando la chiesa comincia a dire anche a Venezia che bisogna chiedere il permesso prima di stampare e comincia a fare degli elenchi di libri che non bisogna più ristampare gli editori si lamentano gli editori cercano di far sentire il loro peso vanno dal governo veneziano a dire ma qui c'è un'industria importantissima che rischia di soffrire non possiamo sopportare questo tipo di limitazioni e per un po' c'è un tiramolla perché il governo veneziano è sensibile al discorso del mercato e dei profitti e non è mica tanto contento che la chiesa da Roma venga a dare ordini a Venezia intendiamoci il governo veneziano in realtà accetta questo dialogo si va avanti per un po' di anni con la chiesa che preme gli stampatori che provano a opporsi e il governo veneziano che traccheggia è una fase interessantissima poi però alla lunga lo spirito del tempo prevale e lo spirito del tempo è che c'è la riforma protestante l'Europa è incendiata la questione religiosa è una questione drammatica non è più tempo di scherzare in Italia non è più tempo di scherzare bisogna salvarla l'Italia dal contagio protestante e la gente deve piegare la testa ecco e quindi alla fine passano tutte queste cose appunto stampare con licenza dei superiori l'indice e così via contemporaneamente però e viene proibito di fare la Bibbia in volgare ecco questa è l'altra cosa straordinaria mentre ripeto nel medioevo non era vietato e nei primi 50 anni della stampa si pubblicano diverse traduzioni della Bibbia in italiano o nelle altre lingue negli altri paesi ecco invece nella prima metà del Cinquecento la Chiesa a Roma comincia a pensare che questa cosa non va bene perché appunto ci sono i protestanti e i protestanti sono dei grandi lettori della Bibbia e spingono perché la gente legga la Bibbia da sola perché il discorso dei protestanti è a cosa vi serve il Papa a cosa vi serve il parroco fate da soli è la vostra anima che è in gioco e invece in Italia e nel mondo cattolico bisogna dimostrare che il parroco serve e come se serve perché tu da solo non capisci niente devi fartele spiegare le cose allora a questo punto si arriva alla decisione drammatica di dire la Bibbia tradotta è un libro proibito e se lo troviamo lo sequestriamo e lo bruciamo a questo punto naturalmente i protestanti in Olanda stampano la Bibbia tradotta in italiano e la importano segretamente in Italia di contrabbando per farla circolare lo stesso e l'inquisizione la cerca e quando la trova la brucia ecco storia straordinaria bellissima bellissima senti Alessandro un'ultimissima domanda e poi davvero ti salutiamo come dire già commossi per la tua generosità che insomma però è nota quindi non hai voluto smentirti e approfitterai della domanda di un di una domanda che è comparsa in chat e per cui si chiede quanti erano in realtà quanta gente sapeva leggere all'epoca quindi una domanda dal punto di vista dei lettori mi verrebbe da dire e anche dal punto di vista della scuola della scolarizzazione e dell'università tu a un certo punto segnali che eh i giunti si rendono conto che l'università è eh quella patavina in quel caso ma non solo è un'altra fetta di mercato importante ma quanti erano i lettori eh percentualmente io mi scuso per la grossolanità delle mie domande naturalmente ehm no chi chi leggeva allora dunque noi percentuali non ne abbiamo è ben inteso perché è sempre questione di fonti eh nei famosi catasti fiorentini su cui mi sono entusiasmato all'inizio di questa serata eh non chiedono alle persone se sanno leggere e scrivere ecco quindi noi non abbiamo quei dati cominceremo credo ad averli soltanto col servizio militare nell'ottocento perché lì finalmente hai l'elenco delle reclute e fra le cose che gli vengono verificate esse sanno leggere e scrivere a quell'epoca non abbiamo dati sicuri ma abbiamo un'impressione complessiva ed è che globalmente la maggioranza delle persone sono analfabete eh però con delle differenze le donne sono molto più analfabete degli uomini per esempio perché ovunque è riconosciuto che sul sul posto di lavoro saper leggere e scrivere serve non serve al facchino ma serve anche al piccolo bottegaio al piccolo artigiano tenere dei conti firmare delle ricevute quindi in realtà c'è tutto un mondo maschile essenzialmente anche popolare che può avere un qualche rapporto con la scrittura nelle grandi città industriali ecco a Firenze a Firenze già dal medioevo è noto che c'era una scelta precisa del comune cioè la nostra popolazione è bene che abbia un certo accesso ecco c'erano scuole a Firenze dove migliaia di bambini andavano a scuola e Firenze era un po' un'eccezione però da questo punto di vista verosimilmente in generale ci si poteva aspettare che la massa dei contadini e quindi la grande maggioranza della popolazione fosse analfabeta in città c'era una certa percentuale anche di gente comune piccoli artigiani o commercianti che però sapevano leggere almeno gli uomini l'elite sapeva leggere naturalmente sia i maschi sia le femmine l'elite che aveva i soldi e che faceva il mercato quindi il punto è questo è una questione di scala all'epoca quando uno tirava un libro in una grande tiratura faceva mille copie non centomila come oggi ecco perché sapevi benissimo che ti rivolgevi a una fetta molto ristretta della popolazione che però era il tuo mercato e ti teneva in piedi l'azienda l'università l'università è lo stesso discorso le università sono per pochi gli studi universitari costano i laureati sono un'elite però pochi ma molto visibili perché ovunque nei posti di potere c'è gente che ci è arrivata perché ha fatto l'università e magari è anche gente che viene dal basso e che ha fatto una scesa sociale grazie a una protezione a un vescovo che ti ha pagato la borsa di studio a un posto in un collegio che sono tutte fondazioni che servono appunto perché loro ce l'hanno vagamente l'idea che il talento va premiato e che anche il figlio del povero se è molto in gamba è giusto che abbia qualche possibilità poi è scontato che il figlio del povero che è molto in gamba che risulta in gamba e potrà avere una certa scesa sociale è uno su centomila ecco però il principio c'era e quindi è un mondo dove chi sa leggere e scrivere e compra libri pur essendo una piccola minoranza della popolazione complessiva però conta moltissimo bene allora senti Alessandro nel frattempo la chat è andata non ti nego che qualcuno si è messo a riflettere sul motivo per cui non sei stato eletto presidente della repubblica e qualcuno ha suggerito ministro dell'istruzione almeno e quindi ministro della cultura e quindi stanno entrando veramente ovazioni al tuo indirizzo però questa non è una notizia mi verrebbe da dire e il calore da cui sei circondato è pari al calore che tu e al rigore anche intellettuale che tu come dire ci regali per cui naturalmente è già arrivato il suggerimento di invitarti un'altra volta io lo raccolgo con grande piacere lo faccio mio ma anche questo tu sai che era già mio questo desiderio per cui ti aspettiamo con il prossimo libro ti ringraziamo davvero moltissimo per per questa serata che chi non ha chi non è potuto intervenire potrà vedere sul nostro canale youtube da domattina stanno partendo gli applausi con l'emoticon quindi sentiti salutato da grandi applausi davvero da da parte di tutti in primis il mio non è la prima volta che te li faccio e credo che continuerò a farteli a lungo grazie Alessandro grazie a tutti arrivederci allora buona serata alla prossima volta complimenti per il libro grazie molte grazie